Molti gli impianti di depurazione che non funzionano oppure funzionano male, una situazione che va avanti da tempo e che causa ingenti danni all'ambiente. La procura di Cosenza ha avviato una serie di controlli. Ebbene, è stato accertato il deturpamento di bellezze naturali e violazioni penali sugli scarichi. 30 tra amministratori, tecnici comunali e rappresentanti delle ditte incaricate della gestione degli impianti sono stati denunciati. Una campagna di controllo delegata al NIPAF, il Nucleo Investigativo di Tutela Ambiente Agroalimentare, che si è avvalso delle stazioni carabinieri forestali presenti sul territorio. L'attività di controllo è iniziata nel mese di febbraio e ha interessato 38 comuni del Cosentino, nei quali sono stati verificati 94 impianti di depurazione. In 17 casi sono state accertate violazioni di natura penale. Violazioni che hanno riguardato l'illecita gestione dei rifiuti, discarico di acquereflo e sul suolo, distruzione e deturpamento di bellezze naturali. 14 gli impianti sequestrati, che si aggiungono ai 19 impianti già sottoposti a sequestro nel corso delle ultime attività dei carabinieri forestali. 55 le sanzioni amministrative elevate, che hanno riguardato la mancata tenuta dei registri di carico e scarico. Lo scarico di acquereflo in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa per un importo complessivo che verrà determinato dall'autorità amministrativa da 330 mila a 3 milioni e 300 mila euro. 50 degli impianti sottoposti a verifica sono risultati privi di autorizzazione allo scarico. 24 impianti sono stati rinvenuti in stato di totale abbandono, privi di qualunque tipo di manutenzione e di energia elettrica. I controlli, fa sapere la procura di Cosenza, hanno evidenziato diffuse alterazioni dell'ambiente, in particolare nelle falle alquifere e nei corsi d'acqua che ricevono i refli non depurati.